Buongiorno ragazzi! Oggi iniziamo con l'affrontare il genere dei verbi, ma partiamo subito con delle frasi di esempio. Alessandro accese la tv, il sole splendeva in cielo, Sandra fa i compiti, oggi piove a catinelle. Che cosa notate ragazzi? Che studiare porta male prof, lo dico da sempre. No Moretti, le frasi vanno raggruppate diversamente, non vanno associate orizzontalmente, ma verticalmente. Le frasi di sinistra non avrebbero un senso compiuto senza le parole i compiti e la tv. È necessario infatti indicare che cosa fa Sandra e che cosa accende Alessandro per dargli un senso compiuto, facendo transitare l'azione dal soggetto al complemento oggetto. Per questo si dicono verbi transitivi. Quindi prof, come possiamo riassumere la definizione? Possiamo dire che si definisce transitivo un verbo la cui azione passa direttamente dal soggetto al complemento oggetto. I verbi di destra invece esprimono un'azione che ha già un senso compiuto. Si definisce quindi intransitivo un verbo la cui azione rimane sul soggetto. Prof, Moretti dorme. Ecco Giovanna, il tuo è un altro ottimo esempio. Per capire se un verbo è transitivo o intransitivo, un piccolo trucco è quello di porsi dopo il verbo la domanda chi, che cosa. Nel caso del verbo dormire non è possibile rispondere alla domanda chi, che cosa. Semmai dove. Infatti Moretti dorme sul banco. Moretti, non si può dormire in classe. Ha ragione prof, effettivamente non si riesce. Avrei bisogno di un po' di silenzio. Passiamo alla forma dei verbi. Con questo esempio, il prof interroga Moretti e... Moretti è interrogato dal prof. Moretti, che cosa notiamo da un punto di vista grammaticale? Prof, da un punto di vista grammaticale, le frasi mi sembrano uguali. Un dramma assoluto. Beh sì, la conclusione della storia sarebbe probabilmente la stessa. Ma da un punto di vista grammaticale invece, notiamo che nella prima frase è il soggetto che compie l'azione di interrogare. Mentre nella seconda, il soggetto subisce l'azione di essere interrogato. Si parla quindi di forma attiva e passiva. Il verbo ha forma attiva quando il soggetto compie l'azione. Ha forma passiva quando il soggetto la subisce. Attenzione ragazzi, i verbi transitivi possono avere la forma attiva e passiva. I verbi intransitivi invece hanno solo la forma attiva. Fate la prova con le frasi iniziali di questa lezione e verificate anche voi. Ad esempio, se prendiamo Alessandro accese la tv, con verbo transitivo in forma attiva possiamo trasformarla in la tv venne accesa da Alessandro. Dove il complemento oggetto della frase attiva diventa il soggetto di quella passiva e dove il soggetto della frase attiva diventa il cosiddetto complemento da gente in quella passiva. Oltre a quella attiva e passiva, i verbi possono assumere la forma riflessiva. I verbi riflessivi propri esprimono un'azione che si riflette sul soggetto che la compie. Essi sono accompagnati dai pronomi mi, ti, si, ci, vi. Io adesso vado a bagnarmi la faccia. Giusto Moretti, ottimo esempio. Vengono invece definiti riflessivi impropri quei verbi che, pur mantenendo una costruzione riflessiva, assumono particolari sfumature di significato. Essi si dividono in due categorie. Riflessivi apparenti quando l'azione non si riflette su chi la compie, ma passa direttamente sul complemento oggetto. Ad esempio, io mi lavo le mani. Cioè io lavo le mani a me stesso. Riflessivi reciproci quando le particelle pronominali riflessive, sempre plurali, c, vi, si, indicano che l'azione è scambievole, reciproca, tra due o più persone. Se dico Moretti e Ferrari, si lanciano la palla. Intendo che se la lanciano l'un l'altro. Se la particella pronominale riflessiva è parte integrante di alcuni verbi intransitivi, come addormentarsi, pentirsi, arrendersi, accorgersi, vergognarsi, abbiamo a che fare con gli intransitivi pronominali. Vieni addormento. Esatto! Che significa che ricadi addormentato, non che addormenti te stesso. Per finire, i verbi impersonali non si riferiscono a un soggetto determinato e sono sempre usati alla terza persona singolare. Sembra che abbiamo finito. Conviene che poi studiate a casa. Oi, Ferrari, ma tu ce l'hai WhatsApp? E dammi il tuo numero dai, che poi da casa, quando c'ho il wifi, ti chatto in privato. Grazie a tutti.